Oggi è una giornata di prove libere, quindi siamo tutti amatori e quindi paghiamo il biglietto d'ingresso al circuito e all'organizzatore e poi veniamo qua e ci divertiamo, ci sfoghiamo in sicurezza C'è qualche pilota famoso? Oggi non lo so, oggi non lo so, non l'ho ancora visto questa mattina ma sicuramente qualcuno in giro trovate perché ci sono sempre che mi saranno La tua moto cos'è una Yamaha? Yamaha R1 R1 1000 ovviamente Ti posso chiedere lì nel rettilineo qua di fronte che velocità potete raggiungere con queste moto Questo qui dove c'è il traguardo? Sì Ma sai che onestamente non ci guardo mai ma secondo me è un 170-180 anche ci si arriva tranquillamente Sì? Sì Decisamente, penso che sia la velocità Diciamo che quando siamo in pista siamo un po' più concentrati a guardare la strada Il contachilometri Guardiamo il contagiri, quello sì, il contachilometri no Il contagiri? Sì Ma tu fai qualche gare in particolare? No, la mia è solo una passione che ho da quando ero bambino Ma sei di qua, sei di queste zone? Siamo di Fabriano, in provincia di Ancora Ah, conosco bene Sì? Sì Bene, sì Abbastanza Si conosce Fabriano? Misano per il circuito, Fabriano per la carta E fatti Grazie.